Pino Silva, tecnico dei pulcini e degli esordienti delle ACLI Campobasso, una fascialità decisamente particolare, ma che le ACLI Campobasso riescono a portare avanti sempre con grandi successi. E' una categoria dove c'è molto da lavorare e dove si inizia a proporre qualcosa di positivo nel ragazzino, c'è molto da prendere in quella fascia d'età molto sensibile. Il ruolo dell'allenatore è cruciale e non è forse solo da allenatore, ma è anche un po' da genitore sul campo? Infatti nello specifico di quella categoria più che allenatore si parla di istruttore e di educatore, quindi oltre all'aspetto tecnico, di certi insegnamenti tecnici, si cerca di dare sempre dei consigli positivi per far sì che questi ragazzi crescono con un'alta moralità soprattutto, nello specifico quando stanno con noi, cerchiamo così di farlo sul campo, nelle palestre, poi quando stanno a casa propria lo fanno i genitori. Noi abbiamo un ruolo importante che è quello di costruire i genitori del domani. Veniamo un attimo ai numeri delle ACLI perché con la scuola calcio riuscite per l'appunto a prendere parte a tutti i tornei regionali, ma questo l'ho riuscito a fare solo grazie a una forte collaborazione che c'è tra la dirigenza e lo staff tecnico. Ma certamente, diciamo che dopo la perdita di Antonello Todi e quanto fu di Antonio che hanno dato il là nella nascita di questa società, noi in qualche modo cerchiamo di darci dentro e di dare tutto quello che teniamo per far sì che questi colori sociali e questa società ormai storica abbia sempre successo e dia sempre delle motivazioni positive per come ho detto prima.